bentornati nel mio canale voglia di cucinare si può fare una ciambella nella friggitrice ad aria certo che sì nella friggitrice si può cuocere di tutto e non solo patatine e crocchette se volete acquistare questa friggitrice vi metto il link nell'info box qui giù sbattete con le fruste elettriche 4 uova medie a temperatura ambiente con 160 grammi di zucchero aggiungite 120 ml di olio di mais e 130 ml di latte aggiungete poco per volta 250 grammi di farina 00 è una bustina di lievito per dolci aggiungete anche qualche goccia di aroma rum versate metà composto in una tortiera imburrata infarinata da 20 centimetri ovviamente deve andare nella vostra friggitrice nell'altra metà di impasto versate due cucchiai di cacao amaro e mescolate e poi versate nella tortiera girate con un coltello per avere l'effetto marmorizzato e infornate in friggitrice ad aria a 165 gradi per 25 minuti non guardate qui l'inquadratura perché aveva impostato gli stessi tempi del forno e vi assicuro che con la friggitrice ad aria i tempi sono dimezzati quindi la cottura è 165 gradi per 25 minuti eccola qui morbidissima mi raccomando lasciatemi un like e un commento e continuate a seguirmi per altre ricettine ciao 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 Grazie.